Ciao ragazzi, come state? Spero bene, qua con me, Sabrina e Daniela, dopo tanto tempo. Ciao! Ecco, dopo tanto tempo che non ci vedevamo. Che tempo è? È tanto, è forzato tempo, sai? Vabbè, oggi siamo qua per decapitare le bambole. In realtà la Sabrina ci illustrerà come decapitare le bambole. In realtà è perché vogliamo switchare due bambole in modo violento. Lei? Per dare un colpo made to move, sì, a lei. Presa oggi lei. Da Toys? 15,99. Era 90. Un furto, sì. Un furto, però vabbè, ne valeva la pena, era bellissima. Poi c'era l'altra che era qualcosa di obrovvioso. Si aveva la stampa brutta e le cose sul rossetto. Sì. I punti sul rossetto. E poi c'era, aspetta... Ah, sì, e io ho presa brutta. Che vedrete recensita più avanti. E che Sabrina ha già switchato. Vabbè, quindi siamo qua a switchare e la Dani... Dani, fai tu le spiegazioni, visto che ci sei. Eh, vabbè. No, no. No. La Dani farà le spiegazioni, così intanto le faccio fare qualcosa a loro. E niente, quindi adesso parte il tutorial. Ciao! E niente, io vado semplicemente di modalità violenta. Gli stacco la testa senza acqua, né niente. E si stacca. Posso andare? Vai, vai. Vado prima con la me to me. Aspetta, c'è anche gli anelli. Daniela, tu intanto incantaci con la tua... Con il tallone. Guarda la violenza. Sabri, vai. Vai, vai. Vai, vai. E viene fuori una cosa del genere. C'è gente che taglia via sti cosi per rimetterli sulla testa più tranquillamente. Sì, però io li tengo perché mi sembra che stia meglio così la testa sta su meglio. E quindi se la Sabrina lo fa, lo fanno tutti. Sì, comunque voi se siete più migliori, fatevi aiutare dai genitori perché io ho una certa età ma non si dice perché. Non è vero, non sei vecchia. Oh no, non sei vecchia. Ci vuole forza comunque. È solo anni. Censura. Censura. Dai, dai, dai. Cazzo che fatica. Metti il vip. Vip. Non lo tanto tagli. Senti, taglia direttamente quando stacco la testa. Che fatica. Taglia direttamente. Dai, dai, dai. Attenta. Attenta a non romperla. Perché ho quello... C'è quella io perché è molto facile che... Non so come cazzo ho fatto a tirarla via subito quello. È stata la forza dell'amore. L'amore. Tanto me ne frega niente di sto qua. Lei è così felice di essere senza testa. ah si neighbors ok nuoto notiamo la forza brutta che applica Sabrina nel togliere la testa questa povera bambola sono diventata una super saiyan god a fare questa cosa dai dai sono bi russama Che non è un Super Saiyan God Cos'è? Un Biru Sama? Biru Sama! È lui, Dio della distruzione Ah, Bills! Ah sì, guardate Dragon Ball Nuovo Super Mi raccomando, altrimenti la Sabrina No, dovete guardare Dragon Ball, Dragon Ball Z Dragon Ball GT, ma è come se Non lo guardaste poi Dragon Ball Super Anzi, l'ordine sarebbe Dragon Ball, Dragon Ball Z Dragon Ball Super e Dragon Ball GT Ma Dragon Ball GT per me non esiste Secondo me è un po' inutile Dragon Ball GT Dragon Ball GT non ha senso La sigla è bella La sigla è bella di Gio Giovanni Dragon Ball GT Ma che quella giapponese non è male Non c'è un drago più Super di così Perché è un drago più Super di così? Perché ogni sera Aspetta, aspetta, io ho detto sera? Magia che è risplendente No, ormai Ce la facciamo Non tirarla troppo Ah no, la stai rompendo Eh, ma stai rompendo il collo Sì, lo so Eh, non farlo Perché sto provando a tirarla Vedi? Eh, ma si rompe Vuoi un cacciavite? Eh no, ma se si rompe non la metti dentro Non la rimetti più dentro No, non la rimetto dentro Eh no Si è incastrato il pezzo Non so come l'ha messa dentro Usa il coso del Dov'è il pettine? Lì It's all for you and me In caso usate un qualcosa di Un fino per Le made to moving vengono via con niente Invece le fashionista È più difficile Sono delle brogne Perché se voi siete intelligenti Mettete la testa Nell'acqua bollente Per un po' E viene via così Però io sono stupida E sono pigra Mi faccio le cose Ecco Bip A bip Ma come cazzo è fatto? No, seriamente No Sei la bipatrice e tu? Se il collo è fatto male Sembrava una cosa brutta Bip Daniela Bipatrice Daniela dai raccontaci Cosa vi racconta? No, qualcosa Che libri consigli a queste persone che ci guardano? Non lo so L'ultimo libro che letto è stato la specialista di Stephanie Meyer Che non spoilerare perché devo ancora leggerlo Noi me l'hanno appena preso È la stessa utente di Twilight e The Host Però non ha niente a che fare con i primi due Quindi Se vi piace il thriller e il genere poliziesco Ve lo consiglio Torniamo a noi Sabrina No, quale cosa è fatto dire? Beh, illustriamo il nome della sua Barbie Talula Talula Ma vediamo la canzone No Perché se no si tocca con la canzone No, se no iniziamo Come prima Ma il cazzo avvisa E i poti Ma la sentita trovo la voce Talula Non è meglio andare sul bar l'acqua volente Ma il fatto è che non è il collo è fatto male Ti arrivi la testa addosso Con verdura The Walking Dead Il segno di volendo la testa addosso The Walking Tallula The Walking Tallula Che brutto Tallula Ma è che il collo non è fatto come le altre persone Il collo non si scolla Dentro vedi che è tutto un pezzo unico Oddio Oh, Christus Non so che cazzo Ah, no, guarda che sta uscendo Vai, 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 vai Che esce, dai Sta uscendo Babe Babe No, era Baby Baby Come cazzo si chiamava l'alieno di Dragon Ball Cioè io dico Guardate Dragon Ball Baby 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 Era Daisy Intanto parliamo con la testa Della Non parliamo con la testa perché La gemella di Summer Nella gemella di Summer Se vi ricordate No, non si È la Sì, dai Sul video della Me Too Move rossa Si vede Summer La gemella di questa tizia Che è stata decapitata Questa tizia non ha ancora un nome Che vuoi chiamare? Potremmo chiamarla Date voi un nome Date voi un nome Alla tizia decapitata Che verrà regalata A mia cugina di 5 anni Povera testa Mi dispiace per te Ma non la testa Eh, vabbè Ma è una bambola carina Non possono Non può avvenire in mano A una cugina di 5 anni Mi c'è scicca No, ancora bene Da Sabrina Sei Illegale Un po' mille per i tessie Si L'ho fatta a staccare la testa Ho perso una mano Don't try this at home Sono gli anelli Si, si è tolta pure gli anelli Per farcela Alla fine in realtà L'ho decapitata io Si, perché Per rimetterla La Sabrina è una fighetta Si Per rimetterla Si fa in questa maniera Basta che spingete Si Perché io adesso Sono male alle braccia Eccola A posto E avete una Barbie fashionista Made to move Spingo ancora un po' in più Perché sembra Una cassa di giraffe Bip Bip Adesso sembra una cassa di giraffe Eccola Eccola Pronta Che bella Veramente Che donna Ora basta solo cambiarle gli abiti Se sistemiamo anche la gemella cattiva di Sam Con i gelati Che ha rubato il vestito gelati Però in compenso si è beccata un corpo un po' monco Azzis vuoi Bip Ho detto azzis Ok Non siate scurrili come me Crescete bene Non prendete esempio dalla Sabrina No no Io sono vecchia Posso inveire quanto voglio Non so E' tipo un vecchietto che va a prendere il vino al bar E' carina sì Anche lei Che fatica Faticaccia però ne vale la pena Sì fate di aiutare i vostri genitori Anzi Io potrei essere un vostro genitore Non fate il metodo brutale della Sabrina Per carità Se non siete sicuri Magari vedremo più avanti un altro metodo insieme Per farlo Rischiate di spezzarle l'osso del collo Nel vero senso della parola E muore Ma non è che muore Che poi non riuscite più a infilare la testa Né sul corpo originale Né sul corpo nuovo Quindi fatevi aiutare Nel senso Cioè se vi fidate a farlo O ben per voi Però non vi assicuriamo che funzioni al 100% E ne sappiamo qualcosa E ne sappiamo qualcosa Ecco mi ha appena sistemato Demi Che bella con la treccia Bella E anche lei voleva un corpo nuovo Ma a quanto pare Abbiamo fatto un mega fail Comunque No non è stata tu È stata la mattella a fare le cose fatte male Comunque ragazzi Questo era il video che ho fatto insieme a loro Noi vi salutiamo Vi mandiamo bacione Bye bye Ciao Ciao Saluto di Giacomo Bye bye dicono Ah solo Sì Che triste Bene Ciao Non dico che sei un'arra Perché sei un'arra È Dio Ciao